Buongiorno, sono Liana Tronci, insegno sociolinguistica e linguistica comparativa all'Università per stranieri di Siena e coordino dal 2013 il corso di laurea magistrale in scienze linguistiche e comunicazione interculturale. Dunque, ogni anno durante l'Open Day mi capita di incontrare con molto piacere, devo dire, studenti e studentesse che mi fanno domande sul corso di studio perché sono interessati ad iscriversi. Quest'anno non è stato possibile svolgere l'Open Day a causa dell'emergenza coronavirus e per questa ragione mi trovo a registrare questo breve video per illustrare a grandi linee le caratteristiche del corso che appunto coordino. Dunque, sicuramente lo specifico di questo corso è promuovere negli studenti la conoscenza delle lingue e la riflessione su di esse. Quali lingue? L'italiano, in primis, per la formazione appunto del docente di italiano a stranieri, ma anche le altre lingue, tanto lingue europee quanto soprattutto le lingue extraeuropee. Ce ne sono ben cinque appunto insegnate nell'Ateneo, il giapponese, il cinese, l'arabo, il coreano a partire da quest'anno, e il russo, di modo tale da poter formare figure professionali capaci di lavorare nell'ambito della traduzione e della mediazione linguistica e culturale. Il corso di studio dà accesso ad alcune classi di concorso. Questa è una delle domande che gli studenti normalmente mi fanno più frequentemente. Tra le classi di concorso menziono sicuramente la classe A23 per l'insegnamento appunto dell'italiano a studenti stranieri, ma anche la classe A22 per l'insegnamento di italiano, storia e geografia negli istituti secondari di primo grado, e inoltre le due classi A24 e A25 per l'insegnamento della lingua straniera, quindi delle diverse lingue straniere che è possibile insegnare, negli istituti secondari di primo e secondo grado. Un aspetto del corso di studio a cui tengo particolarmente è legato all'internazionalizzazione e al lavoro che abbiamo promosso insieme ai colleghi che appunto tengono insegnamenti in questo corso per cercare di promuovere il più possibile i contatti con università, enti di ricerca, ma anche imprese in ambito europeo ed extraeuropeo. Penso quindi alle molte convenzioni che abbiamo con università europee, con enti di ricerca e con istituzioni che permettono ai nostri studenti di svolgere i soggiorni Erasmus per studio e per stage, ma penso anche alle molte convenzioni che abbiamo con università ed enti extraeuropei e penso in particolare ai percorsi di doppio titolo che abbiamo iniziato ad attivare da alcuni anni e che sono alcuni dei quali sono ancora in corso di attivazione con università extraeuropei nel caso specifico, ne abbiamo già una attivata con Nankai e un'altra con San Pietroburgo che permettono ai nostri studenti di ottenere un titolo valido tanto in Italia quanto nel paese estero presso il quale lo studente ha compiuto una parte del proprio percorso. Che cosa altro dire? Informazioni dettagliate sui piani di studio, sulla possibilità di inserire esami in esubero per poter perfezionare il piano di studio si trovano sulla guida didattica che è possibile consultare sul sito di Ateneo. Io invito tutti gli studenti e le studentesse che sono interessate a questo corso di studio a contattarmi per email per poter fissare un appuntamento individuale o eventualmente anche di gruppo e per poter chiarire quindi insieme eventuali dubbi che gli studenti dovessero appunto avere e per potermi permettere di discutere insieme agli studenti le caratteristiche, le specificità ancora più in dettaglio di questo corso di studi.